Dall'undici gennaio alle sette e mezzo di sera alle diciannove e trenta parte una nuova trasmissione che si chiama le chiacchiere Lorenzo ci sarebbe da fare jingle insomma Le ragazze vanno ai convodi No aspetta sto dicendo una nuova Le ragazze della site leggono No una nuova trasmissione, nuova canzone quindi potresti fare una nuova canzoncina Eh ma io ho scritto soltanto questa No a parte non è vero però potresti adesso per gli ascoltatori e le ascoltatrici di radio fare qualcosa di nuovo Un'improvvisata qui sui momenti Ho capito insomma un jukebox Ho capito ma ce l'ho Proprio per le ragazze di Lady Radio Le ragazze sì proprio quelle di Lady Radio sono le più belle Mi è piaciuta sono sicuro questa mia bella leccata di L'undici gennaio alle diciannove e trenta parte le chiacchiere Non ho detto nulla eh Non ho detto nulla Non ho detto nulla Ma perché ti ho interrotto io Diciannove e trenta dall'undici gennaio con Lorenzo Baglioni E Gregory Yves vi s'aspetta Undici gennaio diciannove e trenta Ciao Le chiacchiere Grazie a tutti Grazie a tutti